Eccoci qua, per voi questa piazza non sarà una cosa che non avete mai visto, però è qui che abbiamo scelto anche perché abbiamo alle spalle questa meravigliosa cattedrale e quindi il coro degli angeli si abbina in un modo meraviglioso. Grazie Alessandro Ornella per quello che fate, siete veramente grandiosi, siete straordinari e avete avuto modo di venire a cantare anche all'associazione All'Anfas dove avete lasciato veramente tutti, più che un buon ricordo perché siete fantastici. Un abbraccio, ciao a tutti! Ciao Mario Dessuna, ciao!